buongiorno a tutti e ben ritrovati oggi siamo in media valle po dopo le ultime nevicate che dal weekend hanno interessato la regione ma diamo la voce ai nostri rilevatori le nevicate si sono spinte fino a quote di pianura specialmente a inizio settimana e quantitativi maggiori sono stati registrati sui settori meridionali e sulle zone prealpine comprese fra la valle chisone e la val pellice le precipitazioni sono state accompagnate da una ventilazione sostenuta in quota che ha determinato la formazione di diffusi accumuli un po su tutti i versanti e a tutte le esposizioni per il fine settimana sono previste condizioni stabili con cieli soleggiati ed un aumento delle temperature il grado di pericolo per sabato sarà tremarcato sui settori sud occidentali e meridionali così come in quota su alpi cozze nord e graie di confine altrove a seguito della minore intensità delle ultime nevicate sarà compreso tra uno debole e due moderato non sono previsti sostanziali cambiamenti per la giornata di domenica vi consigliamo di pianificare al meglio il vostro itinerario e le vostre escursioni avendo cura di avere una buona valutazione dell'itinerario e delle condizioni sul posto e mi raccomando prudenza prima di tutto e con questo è tutto vi auguriamo un buon fine settimana